A pochi giorni dall'attivazione del servizio porta a porta nelle contrade Lacco e Selica, l'amministrazione di Brollo realizza un'area per il conferimento temporaneo esclusivo degli sfalci di potatura del verde pubblico, sita in contrada Mersa, nella zona dove sorge l'ex macello comunale, fino a due anni fa, abbandonata e divenuta una discarica a cielo aperto. Era necessario realizzare un'area dove portare il residuo dello sfalcio del verde pubblico del nostro comune, ha dichiarato il vice sindaco Gaetano Scaffidi, che detiene la delega al patrimonio del comune di Brollo e che ha curato tutto l'itera per la realizzazione dell'area. Ci siamo quindi attivati, abbiamo raggiunto l'obiettivo in tempi assolutamente rapidi, meno di due settimane, anche alla luce delle nuove disposizioni della regione siciliana che hanno imposto il divieto di conferimento di materiali di sfalcio nei cassonetti e presso le discariche pubbliche regionali. I lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta Igecos di Marco Speziale. La zona è recintata, è ben delimitata e da accessibile solo da un cancello scorrevole, ha concluso il vice sindaco, dove soltanto i nostri operatori comunali, addetti al verde, potranno conferire gli scarti del fogliame prodotto, senza che lo stesso debba essere portato in discarica e senza perciò crescere ulteriormente il limite di tonnellate di conferimento imposto dalla regione al comune di Brollo. L'accesso all'area in questione è assolutamente inibito ai privati cittadini, i quali comunque per piccole quantità di potatura o di sfalcio privato possono sempre recarsi a depositarle presso il centro comunale di raccolta sito in piazza stazione.